Lo schermo del nostro computer è in grado di rappresentare più o meno 16 milioni di colori, anche se l'occhio umano non è in grado di distinguere tutte queste sfumature. Tra l'altro i monitor dei computer o degli smartphone ognuno rappresenta i colori in modo leggermente diverso, i grafici o gli sviluppatori utilizzano dei monitor che sono tarati, hanno un'affidabilità nel rappresentare il colore più accurata, hanno un'accuratezza maggiore e quindi consentono di avere degli standard maggiori. Finora abbiamo utilizzato dei nomi per descrivere i colori, per esempio qui abbiamo un esempio dei nomi che si utilizzano, che il browser riconosce e infatti ci basta prendere uno di questi nomi, per esempio Coral, andare, se andiamo su VS Code, l'H2, qui sotto ci sono due paragrafi, rappresentato col colore Crimson. Se io lo voglio rappresentare in, prendiamo un colore molto diverso, per esempio Green Yellow, che è questo colore qui, devo scrivere qui invece che Crimson, Green Yellow, vedete, salvo e ora è rappresentato in Green Yellow. Quindi dicevamo ci sono 140 di questi nomi, ogni tanto possono far comodo, soprattutto quando bisogna scegliere Black o White, però si utilizzano dei codici e questi codici noi li abbiamo visti sempre affiancati. Qui per esempio vedete questo codice, adesso lo vedremo, ma prima ne vedremo un altro. Il sistema più, uno dei più utilizzati è quello dell'RGB. RGB si sta per Red, Green e Blue, quindi Rosso, Verde e Blu, e è un sistema di colore additivo, cioè il colore è aggiunto da ogni canale, il canale rosso, il canale verde e il canale blu. Quindi ogni pixel dello schermo è formato dalla somma di questi tre colori. Qui vediamo l'ingrandimento di uno schermo, questo è uno schermo LCD, mentre gli altri sono schermi diversi. Se noi guardassimo lo schermo del nostro computer, che stiamo utilizzando ora, da molto vicino con una lente, vedremmo questa matrice, questa serie di luci, è raggruppata in 3 a 3, e ogni 3 sono un pixel, quindi ogni pixel viene rappresentato da una luce rossa, una luce verde e una luce blu. In base a quanto questa luce è intensa, il colore è diverso. Per esempio, il range è, cioè questi canali, ognuno di questi tre canali, può andare da 0, quindi totale assenza di luce, a 255, che è il massimo della luce. Quindi, se per esempio il canale R è a 0, non c'è per niente rosso, mentre se è a 255 c'è il massimo del rosso possibile. Qui, per esempio, vediamo uno slide RGB, c'è addirittura il codice, se noi volessimo metterlo sul nostro sito ci basta copiare questo codice, CSS, HTML e JavaScript, per avere questo slider. Vediamo, se per esempio portiamo tutto l'R giù, tutto il G giù e tutto il B giù, 0, 0, 0 è il colore nero, ok? E questo qui, che vedete qua, è il modo in cui lo scriviamo nel CSS, RGB 0, 0, 0, che rappresenta il black. Proviamo, quindi il nostro H2, che ora è green yellow, noi possiamo scrivere, dobbiamo scrivere. Quindi cancelliamo questo. E scriviamo RGB, e tra parentesi mettiamo 0,0,0. Salviamo. e vedete che l'H2 ce l'ho fatto diventare nero. Quindi se noi, qui dove c'è, nelle parentesi, RGB mettiamo 255,255,255, quindi ogni canale è al massimo, ce lo rappresenta già qua e vedete che otteniamo il colore bianco. Infatti, se salviamo, vedete che è il nostro TH2, è bianco, quindi non lo vediamo. Infatti, anche qui sullo slide, se lo portiamo al massimo, otteniamo il bianco, perché ogni colore è presente al massimo. Quindi al minimo nero e al massimo bianco. Se noi volessimo ottenere un rosso puro, dobbiamo portare il green a 0, e il blu a 0, e otteniamo un rosso puro. E questo corrisponde a 255, quindi il red, il canale del red è 255, il canale del green è a 0, e il canale del blu è a 0. Salvo. E vedete l'H2 diventato rosso. Quindi, questo è il modo in cui rappresentiamo l'RGB. Un altro modo che è utilizzatissimo, ancora magari più utilizzato dell'RGB, è quello del HEX, o sistema esadecimale. Vedete qua. Questo rappresenta una tripletta esadecimale, ovvero, è sempre il sistema RGB, quindi formato da tre canali. Solo che questi tre canali, invece che essere rappresentati in base 10, quindi con cifre da 0 a 9, vengono rappresentati con i numeri da 0 a 9, più le lettere da A a F, e quindi sono 16 cifre, che sono cifre numeriche o lettere, in realtà. E quindi con un codice leggermente più breve, io posso ottenere lo stesso risultato dell'RGB. Ok. Quindi, torniamo al nostro H2. Cancelliamo tutto l'RGB qui dentro. è il modo in cui si scrive il codice HEX, esadecimale, è, prima si fa un cancelletto, e poi si mette il codice. Ora, ogni canale va sempre da 0 a 255, quindi, il nero sarà sempre 0, quindi se io facessi, il primo canale è 00, il secondo 00, è il terzo 00, vedete che mi rappresenta il nero, ok? Mentre, se io volessi fare il bianco, l'ultimo è la F, il 255 è la F, ovvero FF, quindi FF, 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 questo è il bianco. Qui, infatti, vedete, che ogni colore, facciamo un colore a caso, ok? Questo viola. RGB è 130, 51 e 183, hex è, cancelletto, 82, 33, B7, quindi è più corto, magari, se uno ha dei colori, che usa spesso, se li può anche ricordare a memoria, volendo, quindi è più pratico per quello, ma di solito, si utilizzano delle app, che hanno delle palette memorizzate, che noi andiamo a costruire, quando impostiamo il design del sito, e in queste palette, abbiamo i nostri colori, quindi, poi, prendiamo il colore, lo copiamo, il codice esadecimale, lo andiamo a mettere, qui, in questo modo, ho copiato due volte il cancelletto, ok, in questo modo, vedete, lui già me lo rappresenta VS Code, per questo è comodissimo, perché lo vedo subito qua, in questo modo, il nostro colore, eccolo qua, poi una cosa bellissima di VS Code, è che se io, vado col, col cursore, sul colore, vedete, lui mi apre, un color picker, un color picker, è un, è una, dove posso scegliere il colore, io qui, posso scegliere qualsiasi colore, semplicemente, andando qui sulle tonalità, poi qui sulla, sulla sfumatura, che mi serve, e lui mi dà il codice, quindi basta che io poi clicchi qua, scusate, no, cliccando qua, vedo i diversi sistemi, poi tra l'altro c'è un altro, RGB, è hex code, ma semplicemente scegliendo, me lo mette qua il colore, abbiamo visto che c'è un altro sistema, HSL, adesso, qui non c'è bisogno di trattare anche questo sistema, io sinceramente non lo utilizzo mai, può essere comodo in alcuni momenti, vi basta sapere che HSL sta per hue, quindi la tonalità, saturation, la saturazione, quindi in percentuale, e la luminosità, è un sistema diverso, che non funziona, che non funziona con i tre canali, come l'RGB, però il risultato è lo stesso, magari l'HSL lo approfondiremo più avanti, tornando al codice hex, esiste un modo abbreviato di scrivere i colori, nel caso alcune coppie, ripetano, la faccio prima a scriverlo, così si capisce meglio, per esempio, se io ho, se io ho un colore 55, CC, 33, vedete, ogni coppia, quindi il canale R, il canale G, il canale B, il canale R è 55, il canale G è CC, e il canale B è 33, vedete che ogni coppia ripete la stessa cifra, quando un colore è rappresentato a questo codice, può essere abbreviato, togliendo una delle due, quindi 55 diventa 5, CC diventa solo C, e 33 diventa solo 3, in questo modo, C53 è lo stesso colore che 55, CC 33, infatti guardate, è questo verde, 55, cc 33, riottengo ancora quel verde, ok? Per esempio, se io avessi FF, 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 il bianco, posso scriverlo anche semplicemente FF, ok? Lo stesso con 00, 00, 00, il nero, diventa 00, sempre nero, quindi, questo viene utilizzato quando, ovviamente, può rappresentare molti meno colori, però, spesso, ci sono alcuni colori, standard, e vengono rappresentati in questo modo, per essere più brevi. Bene, ci vediamo nel prossimo video. Sì.